ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del let's play di minecraft per la precisione il primo episodio del 2022 quindi innanzitutto voglio augurare a tutti voi un buon anno nella scorsa puntata abbiamo costruito il meccanismo per far nevicare all'interno della sfera di vetro che abbiamo costruito nella zona del natale come vedete oggi mi trovo nella stazione dei minecart perché andremo a fare un meccanismo che potrete utilizzare sia nei vostri mondi single player ma anche sui server multiplayer per poter dividere le linee ferroviarie ora vi spiegherò bene che cosa ho intenzione di fare ma prima di iniziare ragazzi iniziate bene anche voi l'anno lasciando un bel like e soprattutto iscrivendovi al canale questo pannello lo conoscete benissimo in pratica qua posso scegliere quale destinazione avere per la mia ferrovia che si trova qua dietro in pratica scegliendo o la farm di scheletri o il villaggio del deserto il minecart prenderà una direzione diversa ebbene qua c'è tutta quanta la galleria che arriva al villaggio del deserto c'è una fermata intermedia dove abbiamo creato la scenografia di alladin davvero bellissima e poi da questa parte la nostra ferrovia prosegue tutta questa parte ragazzi è ancora in costruzione come vedete sto sistemando piano piano le cose e lo faccio in live ne approfitto anche per invitarvi ogni mercoledì venerdì e domenica a partire dalle 20 e 30 sul canale viola il link lo trovate in descrizione una volta arrivati qua basta uscire da questo tunnel per arrivare al villaggio del deserto adesso saliamo qui ovviamente dovremo ancora fare la stazione tutte queste cose ma piano piano costruiremo tutto quanto quello che però voglio fare oggi è aggiungere una linea ferroviaria che mi porti in quella direzione da quella parte infatti si trova la zona del mulino che al momento non è raggiunta da nulla e quindi voglio creare una specie di scambio semi automatico per poter decidere dove andare in questo punto che ho segnato andremo a costruire un meccanismo per cui potremmo decidere se continuare e arrivare alla stazione dove c'è il villaggio del deserto oppure andare in questa direzione per raggiungere il mulino la stessa cosa la potremmo fare quando torneremo indietro potremo decidere di tornare a casa oppure andare verso il mulino vale la stessa cosa anche per quest'altra direzione andiamo al villaggio o torniamo a casa quindi ragazzi ci saranno tutte quante le possibilità adesso vado a prendere il necessario scavo un pochino e iniziamo a fare questo meccanismo allora ragazzi qua ho già sistemato un attimino tutto quanto ho fatto lo spazio necessario per la costruzione da questa parte ci sono delle caverne che poi andremo a chiudere anzi meglio farlo subito qua avevo già tappato a suo tempo infatti c'è la cobblestone ragazzi perché io tappavo con la cobblestone non lo so comunque andiamo a chiudere tutto e qua ci sono le linee questa arriva al deserto questa andrà al mulino e questa va a casa adesso qua normalmente dovremmo mettere delle rotaie quindi andiamo a posizionarle subito quindi da qua arriveremo anzi qua sarà alimentata in questa direzione potremo girare di qua e di qua potremo proseguire da questa parte così perfetto ora andiamo a togliere questi due blocchi qua e li abbassiamo di uno quindi togliamo questi due lasciando questo qua al centro quindi così perfetto scendiamo qua sotto andiamo a mettere due blocchi qua due blocchi qua e due blocchi qua e poi togliamo questi così perfetto voilà andiamo a recuperare tutto quello che è caduto e qua dobbiamo fare un'altra cosa allora qui andiamo a mettere un blocco più in alto così la stessa cosa poi lo faremo qua quindi un blocco più in alto qui ok e un blocco più in alto qui ok questo sarà il punto dove si fermeranno i minecart poi qua dobbiamo andare a mettere una rotaia normale in modo che si vada ad unire con quella al centro in questo modo qui no perché deve girare questa rotaia e qua andiamo a mettere due rotaie alimentate quindi togliamo anche questa e prendiamo le rotaie alimentate ne mettiamo una due così qua una normale e qua un'altra normale in modo che scenda questo sarà il punto dove si fermerà il minecart per poter decidere la direzione facciamo la stessa cosa anche di qua quindi andiamo a mettere via questa due rotaie alimentate una due e poi due normali una e due di là perfetto stessa cosa di qua andiamo a mettere rotaie normale qua due rotaie alimentate quindi una due qua normale e poi qua andiamo avanti da questa parte qui dovremmo comunque mettere delle rotaie alimentate per far accelerare il nostro minecart ma adesso ci occupiamo del circuito quindi questo è intanto è un attimino la struttura che dobbiamo utilizzare per fare il nostro video ora andiamo a mettere un blocco qua sotto qua in realtà possiamo possiamo utilizzare questa ma poi possiamo anche andare a nasconderla adesso metto questa e qua andiamo a mettere una torcia di redstone che dovrebbe invertire la direzione del della nostra rotaia vedete adesso ho preso questa direzione che va benissimo perché poi la andremo a cambiare con tutti i bottoni bottoni che dobbiamo andare a posizionare io lo farò qua su dei blocchi a questa altezza qui quindi in questo punto mettiamo un bottone qua poi un bottone lo metteremo qua uno lo mettiamo qua poi un altro lo mettiamo qua uno qua e un altro da questa parte ecco qua adesso questi bottoni hanno bisogno di essere di legno vi consiglio quello perché se li fate di pietra nei server dove potrebbe esserci del lag potrebbe non funzionare bene questo meccanismo quindi vi consiglio di utilizzare quelli di legno ok in questo modo anzi questo deve essere però girato di la ok cosa significa quando il minecart arriverà qua potremo decidere che direzione prendere se schiacciamo questo bottone andremo di qua se schiacciamo questo andremo dritti e la stessa cosa vale per tutte le altre direzioni questo farà andare a destra questo a sinistra e di qua ovviamente questo andare dritto e questo andare a sinistra fantastico in corrispondenza di questi quattro bottoni che ci mandano nelle rispettive direzioni andiamo a fare un circuito qua sotto quindi mettiamo un blocco qua in corrispondenza di questo bottone e facciamo una l in questa maniera e mettiamo della redstone qua sopra quindi 1 2 e 3 perfetto e la stessa cosa la facciamo qua quindi mettiamo qua della cobblestone facciamo così tanto questo verrà tutto nascosto e ragazzi non si vedrà più nulla qua andiamo a mettere la redstone così e uniamo tutto quanto in questo modo qua avremo che quando giriamo di qua vedete che si va ad accendere la rotaia perché oltre a muovere questa al centro dovremo anche avere la spinta per andare da questa parte se io vado di qua succede la stessa cosa vedete si accende questa rotaia da qua invece si accende quest'altra quindi perfetto il nostro meccanismo sta funzionando esattamente come vogliamo adesso dobbiamo fare in modo che schiacciando il bottone si sposti anche questa rotaia in modo che io possa prendere quella direzione per fare questo andiamo qua dove c'è il segnale di redstone andiamo a mettere un blocco qua sotto così poi ne mettiamo un altro qui e saliamo qua di uno in questa maniera e qua mettiamo un repeater quindi qua così e qua mettiamo della redstone quindi la mettiamo qui e qui sopra in questa maniera andiamo ad azionare questa torcia che sposterà ovviamente la rotaia vi faccio vedere guardate tac vedete la rotaia si gira e anche questo si accende quindi quando arriveremo qua partiremo ok e prenderemo questa direzione da quest'altra parte dobbiamo fare la stessa cosa dobbiamo andare ad azionare la torcia per poter girare a destra quando arriviamo dal deserto quindi anche qui andiamo a mettere un blocco qua non facciamo tutta la parte che abbiamo fatto prima ne mettiamo semplicemente due così e qua sopra andiamo a mettere della redstone in modo che premendo il bottone anche in questo caso la torcia si vada a spegnere poi ci manca ancora l'ultima cosa perché quando proseguiamo dritti vedete questa rotaia non si muove ed è corretto perché il minecart andrà dritto ma non si accende quest'altra che invece ci deve dare la spinta per proseguire quindi qua dobbiamo andare a collegare un'altra parte di redstone qui allora dobbiamo fare così ok prendiamo questo segnale qui dobbiamo un attimino andare ad aprire perché mi serve spazio ok molto semplice perché qua dobbiamo arrivare da questa parte quindi togliamo questa così poi metterò posto bene dopo qua andiamo a fare così uniamo tutto e mettiamo la redstone aspettate che metto la luce altrimenti mi spawnano i mob ok a questo punto qua guardate cosa succede si accende questa e quella rotaia quindi andiamo dritti stessa cosa di qua se vogliamo andare dritti vedete si gira la rotaia ed è corretto perché altrimenti gireremo a destra e andiamo dritti perché l'altra si accende se invece andiamo di qua vedete che si accendono solo le rotaie quindi non si muove nulla e di qua facciamo lo stesso test così vediamo se è giusto se andiamo di qua la rotaia si gira e si accende quella se andiamo di qua non succede niente ma si accende quella ragazzi in teoria qua abbiamo finito dobbiamo solamente andare un pochino a nascondere tutto questo che abbiamo costruito e poi possiamo passare al test allora a meno di tutte le decorazioni che devo ancora sistemare ho messo a posto la parte qua con il meccanismo vedete ho sostituito i blocchi arancioni con questi normali e ho lasciato però i bottoni arancioni in modo che risaltino molto di più adesso qua sotto c'è il meccanismo che è esplorabile ed illuminato quindi non c'è nessun problema se dobbiamo andare a fare manutenzione andiamo a fare il nostro test ora ho qui un minecart lo mettiamo qua facendo finta di partire cioè o meglio di arrivare da casa verso questa zona quindi proseguo il nostro minecart viene accelerato scusate il lag si ferma qua come vedete e qua possiamo decidere che cosa fare io voglio adesso andare al villaggio nel deserto schiaccio il bottone e voilà arriviamo fino qua in fondo ragazzi perfetto fantastico ora proviamo un'altra direzione partiamo dal villaggio nel deserto prendiamo velocità arriviamo al nostro scambio e qua decidiamo per esempio di andare verso la parte con il mulino quindi schiacciamo così e voilà andiamo di qua ora ragazzi ultimo test da qui vogliamo tornare a casa quindi schiaccio il bottone arrivo qua schiaccio questo e voilà posso tornare a casa ragazzi adesso il minecart va da solo funziona tutto perfettamente mi piace davvero un sacco naturalmente avrebbe funzionato anche quest'altra direzione che non abbiamo fatto e ovviamente quest'altra ora vado a sistemare un po le decorazioni qua in modo da renderle tutte uguali alla parte che stavo già facendo e poi concludiamo il nostro video ed ecco qua ragazzi lo spettacolo è servito guardate ho fatto tutta la decorazione quindi ho ripreso qua il tema di tutto quanto il tunnel anche da questa parte qui ho messo i cartelli che indicano che cosa succede premendo quel pulsante quindi qua abbiamo tutte le direzioni da questa parte ovviamente dovremo cambiare probabilmente tema perché andremo in un'altra zona questo ci penseremo e da qua possiamo proseguire per arrivare al villaggio ovviamente non ho finito le decorazioni ma questo lo faremo in live lo ho già detto quindi ragazzi il lavoro si può dire concluso è fantastico compatto funzionale bellissimo quindi ragazzi spero che anche a voi questo lavoro sia piaciuto e dunque ragazzi siamo giunti anche oggi al termine di questo video a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti